Sono passati due anni, siamo qui con il sindaco Alberto Trabucchi a Blevio, in questa che è la zona di sopravvilla, forse il sindaco la più colpita. E qui tra l'altro è un'abitazione che ancora mostra i segni della devastazione di due anni fa, 25 di luglio 2021, una data che vi ricorderete per tanto tempo. E purtroppo mi dicevi che sono ancora sfollati, c'erano ancora famiglie sfollate e che lo Stato non ha risarcito questa situazione qua. Perché precisiamolo, poi perché sai. Purtroppo i tempi per avere rimborsi sia per gli affitti che per i danni agli immobili dei privati sono lunghissimi. La normativa è tutta nazionale, regione e comune sono gli enti che attuano, però le regole sono tutte da Roma. Cioè sostanzialmente, sindaco, per questa famiglia, i soldi per questi danni, per il fatto che la casa è inagibile ancora, deve dare lo Stato. Sì, sì, perché sono state fatte le domande a novembre del 2021, ma purtroppo da novembre, l'evento di luglio, le domande di novembre, da novembre ancora non sono stati erogati. Sì, probabilmente sarà difficile anche nell'anno. Sono lunghi i tempi anche per i danni all'ente pubblico e sono abbastanza lunghi anche quelli per le opere, che però sono un pochettino più veloci. Però purtroppo, come ho detto anche in altre occasioni, sarebbe la necessità di un commissario, ma che abbia dei poteri di deroga imponenti, pesanti, forti, dei poteri di deroga, ma è una cosa che non viene praticamente mai fatta. E quindi si applica qualche snellimento burocratico, ma diciamoci la verità, è poca roba e i tempi in Italia delle procedure della burocrazia sono sempre lunghissimi. Beh, avete fatto dei lavori a monte. Sì, sì. Questo l'abbiamo fatto anche col tuo avvicio, l'abbiamo fatti vedere, siamo andati su, dei lavori a monte sono stati fatti. Sì, sì, sì. Infatti noi settimana scorsa, quando c'è stato l'evento di mercoledì, anzi stati fatti mercoledì e giudì 2.20, abbiamo avuto qualche piccolo allagamento, veramente poca cosa, però in un giorno si sono riempite tutte le briglie nuove che avevamo fatte. Che bene, perché vuol dire che se no eravamo nella stessa situazione del settembre del 2022. Funzionano queste briglie, sindaco? Funzionano, noi servono in totale una quarantina di opere, oggi ne abbiamo 7-8, quando saranno tutte la situazione sarà ottimale e al momento qualche disagio continuerà a esserci, qualche problema continuerà a esserci, però funzionano e stanno cominciando a funzionare come a dovere. A queste famiglie che ancora sono fuori casa, sindaco, dopo due anni, io credo che è difficile poter dire qualche cosa, cioè nel senso, è corretto, anche dal punto di vista umano. No, dal punto di vista umano hanno senz'altro ragione, su questa roba qua dovrebbe essere ovviamente, adesso poi è successo a Blevio, poi in questi ultimi due anni ne abbiamo viste molte, i giorni scorsi, stamattina nella bassa. Pertina, pochi mesi fa in Emilia, purtroppo le procedure sono quelle, sono uguali per tutti e forse a livello nazionale dovrebbero ragionare che se questi eventi capitano sempre più spesso, ci vuole un rimettere mano a una normativa per essere più efficienti, quindi anche, non nella fase dell'immediata emergenza, che le norme per me sono quelle del primo mese di emergenza, sono efficienti, ma nei mesi successivi per le prime ricostruzioni che dovrebbero essere altrettanto efficienti quanto quelle del primo mese. Questo è corretto, infatti, mi sembra che, ok, in termini subito sì, ma poi però diamo subito, seguiamo. Anche altre procedure più belle per la prima parte di ricostruzione. Sindaco, senti, se ti riporto indietro al 2021, qual è il primo flash di quel giorno tragico per il tuo paese, quei giorni, quel giorno, insomma, il giorno dell'alluvione, credo, qual è il flash che ti viene in mente? Ma due cose, uno, quando ci sono quegli eventi lì, quando incomincia a suonarti il telefono, che hai 7-8 chiamate una sotto l'altra con gli sms a valanga e quello non te lo scordi più. E l'altro è la notte, perché poi è iniziata nel pomeriggio, poi è anche andata lonti di notte, quando vedi che neanche 5 minuti di pioggia, 2-3 minuti, tutto il lavoro magari fatto in 12 ore sparisce in 2-3 minuti perché è tutto allagato come prima e quello non te lo dimentichi più. Grazie sindaco della tua testimonianza. Grazie. Grazie.